La prima squadra Solteggiata che giocherà per primo È la squadra Della Capitaneria di Porto Guarda qua, quelle che sono state date dalle 4 e un quarto Quindi sono già belli i ruotati La squadra che scenderà in campo Contro la Capitaneria di Porto È l'isola che non c'è La seconda partita Vede di fronte la squadra Del Comune di Termoli Gioca anche il sindaco? No Non credo Altro da fare E l'altra squadra invece La squadra che si batterà con il Comune di Termoli È l'associazione Utrabuc Quindi la prossima La seconda partita è quella tra La Comune di Termoli e la Suzie Dopo prima È l'isola che si batterà con il Comune di Termoli e la Suzie È l'isola che si batterà con il Comune di Termoli e la Suzie È l'isola che si batterà con il Comune di Termoli e la Suzie È l'isola che si batterà con il Comune di Termoli e la Suzie Bene, allora siamo partiti con la seconda partita È un partito È l'isola che si batterà con il Comune di Termoli e la Suzie È l'isola che si batterà con il Comune di Termoli E poi finisce alto sulla Toressa Leggermente di qualche decina di metri Leggermente però Perché sai le distanze Grazie È applauso Una baciura, una baciura Ma va la vinci tu che sei nera nera Una baciura Allora la vince Ora arriva Una bella depilazione di Rascella E' proprio tutto si legge che no Angel